ciao a tutti ragazzi ciao ciao io sono alex io sono la mamma io danny e io argentina oggi non siamo qui per dirvi l'oraio delle puntate ma per fare un quiz la camera che ci farà delle domande riguardo al nostro canale noi dovremo rispondere però se voi le sapete scrivetelo nei commenti sì però argentina stavo pensando visto che è già tanto che non come si dice non non ti sei più travesti della tina perché non ti travesti tale in questo quiz ma certo prendiamo benissimo eccomi finalmente mi era mancato il tuo travestimento allora comunque cominciamo prima domanda come si intitolava la prima puntata che ho fatto sul canale io lo so tina il cane segreto giusto ma come facevo a saperlo io non c'ero vero però voi due potevate saperlo e non mi era venuto in mente non ho mi proprio sfuggito vabbè vi rifarete nelle prossime domande allora quante volte si è trasferita tina nella sua vita cioè argentina nella sua vita io lo so due volte perché prima avevamo una casetta un po più piccola poi ci siamo trasferiti qui però lei non è nata in quella casetta quindi fa due volte giusto ma io non c'ero neanche io io non è giusto tra uno e due prossima domanda perché la mamma ha deciso di ristrutturare casa io lo so di nuovo la mamma uffa ma non è possibile l'ho deciso perché mio marito aveva intenzione di trasferirci però io poi detto no è troppo costoso e poi loro hanno dei fidanzati degli amici qui ne patirebbero troppo allora ho detto beh ristrutturiamola perché beh loro stanno crescendo e poi abbiamo un cane che gli serve anche lui più spazio e anche noi vogliamo una camera matrimoniale molto più spaziosa e luminosa poi ristrutturare non farebbe male abbiamo un imbianchino e un muratore parenti quindi ci fanno lo sconto furba eh dai alex danny fate dovete provarci lo stiamo facendo ma non fai domande facili un attimo pausa milkshake una pausa frullato dopo ah bene ho finito vai pure nella vecchia casa di danny e argentina il letto di danny era a destra o a sinistra io lo so dai ci ho lasciato rispondere era a destra giusto ma io come faccio la pelle eh ma se te non fai parte della famiglia allora andiamo avanti nella puntata di ieri che argentina va a dormire a casa di alex perché strutturano la casa il cassetto di alex era sopra o sotto nella cassettiera e che colore era io lo so allora era sotto hai sbagliato alex vuoi correggerla beh se non era sotto era sopra ed era arancio giusto dai ancora un paio di domande poi alla fine saprete i risultati sono carica anch'io allora in che mese è nato alex l'ho detto nella puntata tac 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 e la so certo il mio migliore amico il punto per te non valeva se no è troppo facile no io non me lo ricordo e saresti la mia ragazza no io sono tia che c'è ha ragione tu si fidanzato con argentina ma perché la incoraggi lui è nato nel mese di ottobre giusto allora terza ultima domanda la camera di argentina e qui sopra sopra cioè spiando sopra di voi oppure sopra questa sala io lo so e sopra di noi esatto un'ultima domanda questa domanda non vale per la mamma qual è il cibo preferito della mamma io lo so ma andiamo io come facevo a saperlo ah niente storie ed è alex e il sushi giusto mi conosci proprio bene anche se non sei mia figlia bene ora ultimissima domanda puoi dirci punteggi bene tu sei a 3 lui a 1 2 1 non va mai leggero vantaggio però la prossima punta domanda vale 3 punti quindi può vincere ancora ognuno di voi furbetta non è che non voglio far vincere te ma sono pazza comunque allora ultima domanda ma la fai o no si giusto la casa di danny argentina la mamma e suo papà quante stanze ha io lo so tina nella nostra casa beh ne abbiamo sette cani giusto batte cinque e vai lo so ho vinto iubio oh si mica se volete scusarmi mi cambio sono super sudata sulla testa con questa parrucca e vai bene ora se volete scusarci io e argentina andiamo a mangiarci una pizza si addio ben noi andiamo a mangiarci il sushi ah no 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 ti ricordo che non è il nostro cibo preferito già io propongo la pizza no 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 che dici la lasagna è il cibo migliore iscriviti e metti i like nei commenti se sapevi rispondere alle domande e se vuoi puoi scrivere le risposte nelle domande io ve le correggerò però non va ad essere di te alla fine del video eh non dimenticare di iscriverti hai dimenticato di mettere like giusto e di abbonarti per essere sempre aggiornato sulle nostre puntate cosa ne pensi che Alex e l'argentina sono tornati insieme e della ristruzione ma in casa mamma non spoilerare lo scopriranno nelle puntate scusate una famiglia strana comunque ciao camera girl saluta ciao ciao iscriviti ciao